Per me essere un eroe è qualcuno che riesce a raggiungere i propri obiettivi mantenendo sempre intatti i suoi ideali e non venendo compromessi. Le novità delle nostre maglie di quest'anno sono innanzitutto che saranno green, sono prodotti con tessuti ottenuti da plastiche reciclate e quindi diamo una mano all'ambiente anche noi insieme a Macro. Anche quest'anno Pallacanesso Reggiana ha accolto con grande favore la proposta di Macron di produrre una maglia totalmente ecologica. La produzione della maglia per l'anno prossimo sarà nuovamente qualcosa di costruito da 13 bottigliette di plastica da mezzo litro che vengono scomposte e ricomposte per fare in modo che questo tessuto sia unico e al tatto identico a quello tradizionale. Il fatto di giocare in Europa con Pallacanesso Reggiana e poter esibire il proprio prodotto in tutta Europa, in tutto il continente, è qualcosa di straordinario. Troviamo molti punti d'incontro perché anche Macron ha una grande tradizione ma guarda al futuro con innovazione.